Dal 14 al 18 novembre andrà in scena l'auditorium Le Fornaci di Terra Nuova Bracciolini il WAG Film Festival. La sesta edizione che mette in scena le pellicole di artisti emergenti tra cortometraggi e lungometraggi. Da quest'anno c'è una serata in più, quindi partiamo dal mercoledì e finiamo la domenica. Ci saranno come sempre tre categorie di film in concorso, una per gli autori più giovani, una per gli autori più maturi e poi per le opere internazionali. E quindi tre premi alle tre categorie dedicate più menzioni speciali. Grande ospite della manifestazione è l'attore Nino Frassica. Giovedì 15 novembre è a Terra Nuova per ritirare un premio speciale. Sarà Le Fornaci, per questo insomma siamo molto contenti perché Nino Frassica oltre ad essere un attore di fiction, insomma è anche uno scrittore, un diciamo intrattenitore, fa parte insomma della storia della televisione e del teatro italiano e quindi siamo contenti di averlo qui a Terra Nuova, però ecco anche spazio a film indipendenti come la natura del WAG. Però ecco sabato ci sarà anche uno spazio per approfondire i nostri progetti, quindi il progetto degli orti sociali e il progetto REDI, quello contro le discriminazioni di identità sessuali e di genere.